I podcast di LCN Sport Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio, l'eco day by day Oggi è lunedì 14 agosto 2023 ed è giorno di festa, di ponte, non so, di ferie Spero per tutti voi, invece qualcuno evidentemente avrà da fare lavoro anche oggi Magari spero per voi solo per mezza giornata e noi saremo operativi come sempre Perché questo mestiere di pause ne conosce veramente poche Parlando di calcio l'eco 1912 da Ancona, l'eco in poi Sicuramente pause non ne abbiamo mai avute se non per qualche giorno buttato qua e là In cui sembrava che si potesse andare con tranquillità Invece a fine tutto è stato smentito Al di là di questo vi teniamo compagnia Chiaramente sono giorni di lavoro a ritmo un po' più basso Un po' più ridotto, contingentato anche per gli operatori di mercato Ve lo spiegavamo nei giorni scorsi C'è una sorta di patto implicito tra gli operatori appunto per questi giorni In cui si chiama un pochino meno Non è che non ci si senta Ovviamente però Giusto stare anche in casa Alla fine è sempre tempo di calcio mercato Non saranno questi due o tre giorni a cambiare la vita A una società o a qualcuno In senso positivo o in senso negativo Quello che non si farà in questi giorni Si potrà fare il 16 Ecco diciamo che dal 16 in poi L'eco dovrà fare, dovrà accelerare Non che non stia facendo Non che non stia provando a correre Però è chiaro che poi arriverà il tempo dello stringere Arriverà il tempo del concretizzare Arriverà il tempo del anche solo vagliare con un po' più di profondità Adesso i tavoli aperti sono veramente tantissimi Quando voi vedete tutti questi nomi avvicinati all'eco Effettivamente sono realtà Perché l'eco deve vagliare tanto Perché alla rosa di Mr. Luciano Foschi Devono essere apportati ancora tanti cambiamenti Perché questi cinque giocatori di categoria Non sono ancora arrivati Perché per adesso si sta andando a lavorare Un po' sulle scommesse Sul caporale di turno Vero è che è un over però Per l'eco non è stato difficile prenderlo È stato difficile perché comunque È un giocatore che Chiaramente ha tutta la voglia di provare a salire Anzi provare Di salire in categoria E provare ad affermarsi anche al piano di sopra Dopo aver fatto ottime cose Con la maglia della Viettus Francaville Poi tanto sugli under Perché comunque la lista B Sarà molto importante Questa lista di under 23 Che si può riempire In realtà no Riempire no Perché non ha limite Non ha limite E quindi si può lavorare assolutamente Anzi si deve lavorare assolutamente Prima su questi obiettivi Quasi che sugli over Perché poi Sapete che oggi magari spara alto sulle cifre Poi se negli ultimi giorni Non trova sistemazione Piuttosto che star fuori rosa Fuori lista Dove attualmente Preferisce Magari anche un po' Ridurre le proprie aspettative E andare in un'area promossa in Serie B Come l'Ecco Che comunque magari potrebbe dargli La possibilità di giocare Io penso Al Pellegrini di turno Che oggi Manu ha Delle possibilità concrete Una è Vicenza Do vuole A Imodiana Che l'ha avuto a Reggio L'ha fatto sbocciare Con questi 11 gol Per la prima volta In doppia cifra Lui è di scuola Sassuolo Assolutamente Per un aspetto Molto interessante Anche lui è un under In classe 2000 Non lo sarebbe più In Serie C Ma in Serie B Invece sì E quindi Comunque potrebbe andare A giocarsi un campionato Di nuovo Di nuovo Con Diana D'altra parte Invece può provare L'esperienza Di nuovo In Serie B Lui in Serie B Ha già giocato Con la maglia del Pordenone 18 partite senza gol Nell'anno della retrocessione Vero è che Era stata appunto Un'annata difficile A livello di squadra Però comunque Può di nuovo Mettersi dell'ottica Di fare Qualcosa di più Qualcosa di meglio Nella propria carriera Perché è chiaro Che fare bene Un anno in Serie B Potrebbe aprirgli le porte O di una alta Serie B O magari Appunto del ritorno In pianta stabile A casa madre Al sassuolo Che i suoi talenti Si tiene sempre A valorizzarli Mi sembra Anche l'età Giusta In cui Volersi Doversi Affermare Appunto 23 anni Poi rischia anche Di Perdersi un po' Per strada Io fossi un calciatore A 23 anni Non mi porrei Troppi Troppi dubbi La Serie C È stata vinta Quindi in quella Categoria Ormai Ci si è affermati Penso che Un giocatore Di 23 anni Deba fare Il salto di qualità Deba farlo Atterrando al piano Superiore E questo Per il Lecco È chiaramente Un argomento Importante È l'argomento Importante Perché anche Dal punto di vista Economico Essendo questa Una società Che non fa E non farà Follie Dal punto di vista Degli ingaggi Delle proposte In tal senso Magari si può essere Anche Molto meno Competitivi Rispetto a un Vicenza Che invece Ha grandi Disponibilità Economica Ed è pronto A riconoscere Anche ingaggi Importanti Ma è anche un po' La differenza Che c'è sempre Stata tra C e D In D Ti possono coprire Di soldi Anche perché La tassazione Non esiste Solo la ritenuta Da conto In serie C Però Sei la categoria Sei un professionista E quindi È anche Tutto un altro Discorso E ripeto Fosse un giocatore Fosse chi consiglia Un giocatore Di 23 anni Che ancora Deve farsi vedere Dalla propria società Di appartenenza E provare a fare Il salto Verso la serie A Non avrei dubbi Sulla scelta da fare Anche magari Prendendo meno soldi Però francamente Se poi uno fa Il salto di qualità Quei soldi Che ha diciamo Lasciato adesso Vi può recuperare Provanti O comunque Come si insegna sempre Si fa sempre In tempo A tornare indietro Questo Ma vale anche Per il Caprodossi Di turno Caprodossi È un elemento Importante Per la serie B Ha vinto Due degli ultimi Tre campionati Se non vado errato L'ha vinto Con lo Spezia Arrivato terzo E poi Ha vinto i playoff Con il Frosinone Vittoria Frosinone Sconfitta in casa Poi Per la miglior classifica Con quella squadra D'Italiano Ha fatto il salto In serie A E ha vinto Col Cagliari Da comprimario Queste 17 partite Di cui parlavamo Anche ieri E appunto Poi la vittoria Sul campo del Bari Al minuto 90 Millesimo Con il colpo Di testa Di Pavoletti Insomma Sotto il diluvio Tutto molto Struggente Da una parte E romantico Dall'altra Chiaramente Noi lo vediamo Da parte terza E sicuramente C'è tutta la bellezza La crudeltà Del calcio In quell'ultima Palla In quell'ultima Azione Ecco che appunto Capradossi È un elemento Comunque che per la categoria Ha un palmarès Importante Che però Appunto L'anno scorso Ha giocato Da comprimario Non è stata Una prima scelta Per nessuno Degli allenatori E quindi Neanche per Ranieri Che si sono avvicendati Sulla panchina Del Cagliari Non ha giocato L'altra sera Quando invece È subentrato Gol Daniga Che comunque Rimane Assolutamente In uscita All'eco Piacciano entrambi Piacciano entrambi Da quello Che abbiamo appreso Da quello Che vi abbiamo raccontato Scritto Di 100 È Capradossi Quello più probabile Al momento Però ovviamente Vuol dire tutto Non vuol dire niente Vuol dire tutto Non vuol dire niente Perché c'è talmente Ancora tanto tempo Che i blu celesti Non faranno follie Vale anche per Pellegrini Adesso noi parliamo I due giocatori Quando è il 14 Di agosto Appena iniziato Magari Sono trattative Che non si chiuderanno Positivamente Magari sono trattative Che avranno tante fasi Sono trattative Che magari si chiuderanno Il 31 di agosto Può succedere anche questo Se ricordate Quando l'eco Riuscì a portare Guns in blu celeste Era una trattativa Che andava avanti Da un po' Venne chiusa Quasi su gong Con una scrittura privata Per arrivare al prestito E non si fece neanche A titolo definitivo Quando diciamo Che l'eco Non farà Non si sederà Ad aste E via dicendo Uno perché non ha Il potere contrattuale Per farlo Due perché Aspettare È vero Dalla parte rappresenta Un rischio Rappresenta un pericolo Perché comunque Si possono perdere Pensando a questi giocatori D'altro canto Non li puoi inserire Non li puoi far allenare Non puoi dare a Foschi Una rosa definita C'è anche però Da considerare il fatto Che aspettare Vuol dire Magari Aver l'idea Di mettere 100.000 euro Su un giocatore Magari strappare Un accordo a 80 E quei 20.000 Si possono investire Su altro Magari su un altro giovane Magari Metterli Su un'altra Trattativa Con un giocatore Di livello superiore Rispetto a quello Che si sta trattando In quel momento Insomma È un discorso Veramente Fatto di Intelligenza Quello che dovrà fare L'Ecco E sicuramente Fra che ho allato Dal punto di vista Della trattazione Un punto di vista economico Anche del saper aspettare A L'Ecco Sempre insegnato Di saperci fare Anche perché Tante volte Ha veramente dovuto Operare a zero Ricorderete L'inverno Di Iocolano Che andò via Alla fine L'Ecco A gennaio Portò a casa Vasic Che oggi è diventato Quello che è Anche perché È stato messo Alla prova All'Ecco Pur non avendo Sempre brillato Però Ha trovato La continuità Che gli mancava E poi Anche Nepi Paradossalmente Nepi Ha fatto bene All'Ecco L'anno scorso Non bene Però Comunque L'Ecco Riuscì Con veramente Zero euro Da investire A dare Una punta A De Paula E valorizzò Guns Tra l'altro Prendendo Nepi Non era tanto Nepi Perché Prendiamo per forza Lui Però Era un Diamo a Guns La possibilità Di fare Quello che sa fare Meglio Ovvero i gol E direi che Il piano Riuscì Molto 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 Questo Poi Discorso Numero 2 Questa sarà La settimana Delle luci Lucia Castello Come abbiamo scritto L'altro giorno Lucia Castello Perché Alecco Dopo La prova Il collado Come preferite Chiamarlo Di queste luci Installate Sopra la tribuna Sopra i distinti Nel corso Dei prossimi giorni Verranno installate Le luci Che Saranno Protagoniste Mettiamola così Sulle 4 torri faroli Le lampade Allogene A parabola Sono state Tolte Nel corso Delle passate Settimane Era stata Chiusa via Pascoli Poi Vedicendo anche Via Cantarelli Si rifarà Bene male La stessa cosa Verrà riposizionata La gru Vedremo Degli impianti Totalmente Diversi Chiaramente Non si parla più Di impianti Con le tecnologie Di 60 anni fa Si parla di impianti Con pannelli a led Quindi pesano meno Una capacità Di illuminazione Sicuramente superiore Bisogna rispettare Dei parametri Ovvero 1200 lux In prossimità O meglio Dove puntano Le telecamere fisse Anche per la questione Del var E 800 Nelle aree Scoperte Dalle telecamere fisse Quegli 800 Per il 2024 A 2025 Dovranno essere Già 1000 Ecco In Casalecco Da questo punto di vista Si è guardato Veramente al futuro Sperando di salvarsi Quindi di andare Già Verso Quanto richiesto Il manuale Licenze nazionali Serie B 2024 2025 Quindi rispettando I 1000 Minimo In tutte le aree Del campo Con le punte Di 1200 Nelle aree Di cui Sopra Ecco Che quindi In questi giorni Dal 16 in avanti Ci aspettiamo Di vedere Questa grande Gru Posizionata Tra via Pascoli E via Limitrofe E l'installazione Di questi Di questi Fari Sulle torri Che oggi Sono nude Scoperte Sono state Comunque Abbellite O meglio Potenziate Ecco Questo è il termine Giusto Con nuovi cavi Con un'infrastruttura Elettrica Nuova E quindi Si lavorerà Ancora su quello Perché oggi Tanti cavi Sono penzolanti E poi appunto Si collegherà Il tutto Ai nuovi fari E via dicendo Se ci avete seguito Ieri avete visto Anche che prosegue Intanto L'opera A livello Dei muri Con l'installazione Delle due porte In curva nord In curva sud Nei fori Che erano stati fatti All'interno Sono stati fatti I basamenti Per i tornelli Doppi automatici Che vedranno Il passaggio Di tanti tifosi Dalla curva nord E della curva sud Per quanto riguarda Distinti Come vi dicevamo Già settimane fa Non si faranno Questi tipo di opere In tribuna Già a posto Da tempo E distinti Invece Non c'è proprio Lo spazio Quindi Nei vari dialoghi Portati avanti Con questura Prefettura E via dicendo È stata ottenuta L'autorizzazione A utilizzare I palmare Quindi i controlli Saranno fatti Da personale addetto E saranno fatti In modo manuale Non c'era altra Soluzione Però si può andare In deroga Anche utilizzando Questa metodologia Perché comunque Ecco Su questo discorso Può far valere Il legittimo impedimento Così come L'ha fatto valere Lo vorrà far valere Anche il 29 Il consiglio di stato Proprio anche Proprio dal punto di vista Strutturale Non c'era lo spazio Per posizionare I tornelli Se non Magari Passando da delle opere Che non si fare Sarebbe stati In tempo di realizzare Nei tempi previsti Tutto questo Poi sarà Collegato Anche al posizionamento Delle sedute Si passerà Prima dalla curva sud In curva nord Si farà nel corso Del campionato Dei sigiolini E comunque Si sono prese anche Le visure Nel corso Dei passati giorni E poi Non ci sarà Da fare Ancora molto E le ecco appunto Che per quest'anno Deve fare il minimo Poi se avrà La bravura La fortuna Di salvarsi Al termine Di questo campionato Di serie B L'anno prossimo Potrà tornare A mettere mano Allo stadio E andare Andare a fare opere Anche più pesanti Tanti sognano La rimozione Dell'inferriata Di istinti Curva nord Vi posso assicurare Che è stata valutata Ma non c'erano I tempi effettivi Per portare A termine Queste opere Si è fatto altro Si è fatto Il minimo Che già non è minimo Indispensabile Anzi Il minimo Che non è poco Indispensabile Per arrivare A ottenere La deroga Tutto questo Poi dovrà passare Sotto gli occhi Di Carlo Longhi Presidente La commissione Infrastrutture Che poi Dà Il proprio parere Alla Maxi commissione Mettiamola così Della FIGC E poi dovrà dare L'autorizzazione Dar l'omologa Sui posti E via via Dicendo Questo ovviamente Si lega anche Al discorso Campagna Abbonamenti Perché in tanti Chiedete So che si sta Discutendo in casalecco Sulle cifre Degli abbonamenti Un discorso Che è chiaramente In fase ancora Embrionale Perché oggi Non c'è Proprio Consapevolezza Di quanti Abbonamenti Si potranno vendere L'anno prossimo Perché Il riconteggio Deve essere poi Vidimato Ufficializzato Certificato Appunto Dall'ingegner Longhi Finché non si avrà Quella carta in mano Di campagna Abbonamenti Non se ne potranno Aprire Anche perché Poi l'eco Deve capire Quando scenderà In campo E quanti Abbonamenti O meglio Quante partite Saranno contenute Negli abbonamenti Che potrà Andare a mettere In vendita Potenzialmente 19 Perché si Assolutamente Nei tempi Ce la si potrebbe Anche fare Ma potenzialmente Anche 18 17 Quindi è tutto In fase di sviluppo E oggi Purtroppo Non si possono fare Fughi in avanti Sul discorso Abbonamenti Però Ecco Questa informazione Ci tenevamo a darvele Perché appunto Da quanto abbiamo appreso Si sta Comunque E già iniziando a ragionare Anche in quest'ottica Poi tutto dovrà passare Inderogabilmente Dal 29 Quando si andrà Al consiglio di stato E si farà Insomma Il punto della situazione Si tirerà una riga In fondo a questa estate Fatta di ricorsi Controricorsi Sentenze Cambi di scenario Ribaltoni Carte bollate Tanta 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 Noia Se ci permettete Di dirlo Buona giornata a tutti Buon inizio di settimana A tutti E forza l'è così